Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo della piramide della qualità. Tramite l'hashtag AskTheWine in un commento sotto ai miei video, Simona Leopizzi mi ha chiesto maggiori chiarimenti sulla differenza tra DOCG, DOC, IGP, tutte denominazioni che non noi troviamo all'interno delle etichette quando andiamo ad acquistare il nostro vino al supermercato oppure in enoteca e quindi non possiamo far altro che in questa puntata parlare della cosiddetta piramide della qualità, quindi quell'insieme di denominazioni che ci fanno percepire, almeno a livello di prima scrematura, la qualità di un determinato vino. Ecco, in realtà questo concetto non è che esiste da secoli, soprattutto per quanto riguarda il panorama italiano, ma di fatto è frutto di un insieme di legislazioni che nel tempo si sono via via succedute e hanno subito varie modifiche per arrivare alle attuali denominazioni che appunto noi troviamo in etichetta. Quindi non possiamo parlare dell'oggi se prima non facciamo un po' un salto all'indietro nel tempo per capire dal dove comincia tutto ciò. E in Italia tutto questo comincia nel 1930, quando viene fatta la prima vera legislazione organica per quanto riguarda il mondo del vino. Di fatto questa legislazione era a difesa della cosiddetta tipicità. Tipicità che è un concetto in realtà abbastanza fumoso, perché è una sorta di via di mezzo non molto chiara tra qualità e provenienza. Quindi da una parte si voleva difendere la qualità, quindi l'aspetto qualitativo organolettico del vino, ma dall'altra si voleva tutelare la provenienza. Prima c'era una sorta di caos dove di fatto ognuno sulla propria etichetta poteva scrivere quello che voleva e quindi poteva generare un inganno, trarre in inganno il consumatore. Ed ecco che questa prima legislazione in maniera molto salomonica, se così possiamo dire, ha diviso tutti i vini italiani in due grandi famiglie. Di fatto i vini cosiddetti tipici e i vini senza nessuna indicazione. Come potete ben capire queste due grandi famiglie potevano voler dire tutto e voler dire niente. Poi nei vini tipici in realtà c'erano anche delle sotto categorie, definiti vini speciali, vini superiori, vini fini, però come potete capire non c'era in realtà nessun ancoraggio a quello che poteva essere un criterio effettivo di differenziazione. E di fatto era forse una legge che dava un po' più di ordine, ma in realtà non garantiva appieno la riconoscibilità delle varie vitigne, delle varie etichette. E quindi facciamo un altro salto nel tempo, ci spostiamo avanti di poco più di 30 anni, siamo nel 1963, il DPR 930 cambia la classificazione, quindi allarga, se così vogliamo dire, le denominazioni, o meglio arricchisce il panorama delle denominazioni andando a inserire intanto una inserire due che intanto conosciamo molto bene, quindi la DOC, denominazione di origine controllata, e la DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, quelle che ritroviamo ancora oggi sulle etichette. In più vi erano altre due categorie, perché se DOCG e DOC erano la parte più alta della piramide, nella parte in mezzo vi erano le DOS, denominazione di origine semplice, mentre invece alla base vi erano i vini senza denominazione. Altro salto di 30 anni, sembra quasi che si vada di 30 in 30, arriviamo nel 1992 e arriviamo alla legge 164, che va a recepire una normativa CE, quindi comincia anche l'Europa con le sue legislazioni ad andare a modificare il panorama del mondo del vino, e di fatto, mentre l'apice della piramide sostanzialmente rimarrà stabile, andremo ad osservare dei cambiamenti per quanto riguarda gli altri due livelli. Infatti, DOS e vini senza denominazione diventano IGT, indicazione geografica tipica, e i cosiddetti vini da tavola. Quindi, diciamo, questi vini che rientravano, che erano un po' più liberi da vincoli di provenienza o di disciplinari produttivi, e che di fatto si ponevano nella parte più bassa, quella, diciamo così, di largo consumo. Ulteriore salto, arriviamo nel 2009, la legge 188, che va a recepire anche qui un'armonizzazione a livello europeo, che però non riguarda solo i vini, ma tutti i prodotti dell'agroalimentare. infatti, qui si va a definire delle nuove categorie che vanno, appunto, a descrivere e a suddividere i vini in base alla provenienza. Quindi, il concetto che l'Unione Europea vuole rimarcare è la provenienza del prodotto, quindi la salvaguardia delle specificità di provenienza. Quindi, a questo punto, che cosa introduce? L'Unione Europea introduce delle nuove categorie, che sono la DOP, denominazione di origine protetta, nelle quali confluiranno DOCG e DOC, che però manterranno, potranno mantenere questo nome, di fatto quindi in Italia ancora possiamo attribuire queste due denominazioni, oppure scegliere la DOP. Come potete capire, la DOP discrimina meno rispetto a quanto fanno le due menzioni precedenti. Poi la IGT diventa IGP, Indigazione di Geografica Protetta, anche qui tema sempre legato alla territorialità. Infine, l'ultimo gradino, sono i cosiddetti vini generici, con la particolarità in più dei cosiddetti vini varietali. E partiamo proprio dalla base della piramide, quindi i vini generici, quelli di larghissimo consumo, a volte anche, molto spesso, di basso costo, prodotti con tecniche, diciamo, non stabilite da dei disciplinari, o anche come provenienza delle uve, possono essere utilizzate. Le uve delle provenienze più generiche facoltativamente possono indicare il riferimento all'annata e, se parliamo esclusivamente per quella sottogregoria di vini varietali, possono indicare anche il vitigno di provenienza. Però il vitigno di provenienza è, diciamo, obbligato all'interno di determinati, appunto, vitigni, che vi vado a leggere, perché sono un po' come i setterani e rischio di scordarsene sempre uno. Allora, abbiamo il Cabernet, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Syrah, lo Chardonnay, il Merlot e il Sauvignon. Quindi, solo questi possono essere indicati in etichetta per legge. Di fatto, quindi, questi vini non hanno nessun vincolo particolare se non il rispetto delle vicenti normative igienico-sanitarie e del tasso minimo alcolico per essere denominati vino. Ecco, quindi, di fatto, fanno riferimento solo alle regole generali. Saliamo di un livello la nostra piramide e troviamo gli IGP barra IGT. In questo caso, troviamo un collegamento molto forte al territorio. Per questi vini è previsto un disciplinare, quindi, di fatto, un insieme di regole più stringenti rispetto a quanto abbiamo visto per i vini generici, i vini varietali. Di fatto, perché parliamo di legame con il territorio? Perché comunque la caratteristica principale di questi vini è che per almeno l'85% devono essere fatti con uve provenienti dal territorio che viene indicato in etichetta. Quindi, di fatto, c'è una sorta di certezza o quantomeno di maggior sicurezza rispetto alla provenienza delle uve. Particolarità italiana è, essendo che noi abbiamo dei posti dove si parla il bilinguismo, ad esempio potreste trovare in Val d'Aosta la denominazione Vendupéi, perché sono appunto la denominazione che usano anche i francesi, oppure in Trentino Alto Adige l'indicazione Landwein per indicare appunto questi vini che sono sempre entranti nella categoria dell'IGP-IGT. Perché un produttore sceglie questa denominazione? Beh, principalmente le motivazioni possono essere o di natura commerciale o di natura di scelta produttiva. L'IGP lascia maggiore libertà in tutti i sensi, sia per quanto riguarda le tecniche che per quanto riguarda le rese, oppure a volte, al contrario, l'uscire dalle regole non deve essere solo interpretato come un voler essere più larghi, ma a volte si può agire anche in riduzione, cioè determinati disciplinari di DOCG o DOCG potrebbero essere molto vincolanti per un produttore che magari vuole sperimentare, oppure vuole essere ancora più restrittivo rispetto a quanto prevedono i suoi disciplinari, o ancora utilizzare delle tecniche particolari che il disciplinare non prevede. Ecco, quindi di fatto a volte queste scelte commerciali di differenziazione portano alcuni produttori a, così si dice in gergo, declassare il vino a IGP o a IGP proprio per non rientrare nei vincoli dei disciplinari, delle denominazioni più alte. Infine arriviamo all'apice della nostra piramide, quindi i vini DOP al cui interno vi sono ricompresi le DOCG e le DOC. Le norme ovviamente sono qui molto restrittive, vi sono dei disciplinari molto rigidi da dover rispettare che vanno a indicare non solo la provenienza delle uve, ma anche l'utilizzo di determinate tecniche sia di cantina che di coltivazione, periodi in cui si può vendemmiare, cioè ce n'è veramente di tante qualità. Ma questo perché? Perché l'ottica della DOP e a sua volta della DOC e della DOCG è quello di salvaguardare non solo la provenienza, ma le caratteristiche organolettiche di differenziazione che questi vini hanno e che sono determinate anche da tipicità climatiche di determinati luoghi. Se ad esempio pensiamo alla Sicilia, probabilmente è diverso produrre un vino vicino al mare o più nell'entroterra. Ecco, quindi le DOC, le DOCG vanno anche a tutelare questo, ma non solo, vanno a tutelare anche il percorso storico di un determinato vino, quindi il fatto che abbia una origine molto antica, o anche fattori umani, quindi determinate tecniche di lavorazione in cantina che rendono questi vini meritevoli di una menzione, una denominazione apposita. Quindi, questi vini hanno un disciplinare apposito con norme più restrittive che vanno a ridurre la zona di produzione e di provenienza delle uve rispetto all'IGP vengono preliminarmente valutate con delle analisi di tipo chimico-fisico e organolettico per andare a stabilire se effettivamente questi vini hanno delle caratteristiche peculiari rispetto al vino IGP e quindi, una volta che hanno superato questo esame, viene emesso un decreto, solitamente un decreto del Presidente della Repubblica, con decreto Ministeriale, che vanno a stabilire di fatto la nascita del disciplinare e quindi il fatto che quel vino potrà portare quella determinata menzione. Le prime DOC, quindi le prime DOC, in Italia, sono nate nel 1966. O meglio, su questo c'è un po' di diatriba storica. Perché, di fatto, se da una parte abbiamo quelle effettivamente riconosciute, quindi quelle di cui si ha una certezza, se così vogliamo dire, storica, come, ad esempio, quelle nate nel 1966, quindi la Vernaccia di San Gimignano, l'Est-Est-Est di Monte Fiascone, l'Ischia, nelle sue tre versioni rosso, bianco e superiore, e il Frascati, in quanto appunto i loro disciplinari sono stati pubblicati nel corso dell'anno 1966, ricordiamo dopo l'uscita della legge del 63, la legge del 63 stessa fa espressa menzione del mantenimento delle denominazioni in Marsala e Moscato Passido di Pantelleria. Ed è qui, diciamo, un po' dove si combatte questa diatriba. È un po' una curiosità di cui vi voglio parlare, appunto, su chi è stata veramente la prima doc in Italia. Questo perché? Perché un conto è guardare la legge e quindi vedere che effettivamente i primi disciplinari sono quelli strutturati, sulla base della legge del 63, sono quelli dei quattro vini che li ho denominati in precedenza. In realtà, poi, la legge stessa del 63 menziona a sua volta il fatto che due vini potevano mantenere quella determinata denominazione, che era stata, in realtà, attribuita a suo tempo a seguito di legislazioni fatte dai richiesti dai produttori per tutelare i loro prodotti. Bene, come vedete, il mondo è bello perché è vario. Quindi, lasciando questa disputa a storici e a, come dire, giuristi, andiamo invece a parlare un po' più della DOCG. Quindi, la DOCG, rispetto alla doc, è un vino che ha dei disciplinari ancora, se vogliamo, più rigidi. Di fatto, normalmente, una DOCG si può ottenere dopo che il vino è stato all'interno di una doc per almeno 5 anni e di fatto sono portatori di caratteristiche peculiari e organolettiche che vivono da non solo la zona di produzione, ma anche da fattori umani e storici. Un po' quello che abbiamo visto prima. Cioè, quindi, dove effettivamente il fatto di stare in un determinato luogo, con una determinata storia, con l'utilizzo di determinate tecniche, dà a questo vino delle caratteristiche anche percepibili rispetto al resto delle DOC o delle IGP presenti all'interno di quello stesso territorio. Di fatto, questi vini hanno un ulteriore meccanismo di analisi che va a interrogare le caratteristiche chimico-fisiche anche durante la fase dell'imbottigliamento. Cioè, nel momento dell'imbottigliamento, partita per partita, vengono fatte delle analisi per vedere se il vino rispetta le caratteristiche del disciplinare. E in più, vi è anche l'analisi sensoriale fatta da un'apposita commissione che va appunto a stabilire effettivamente le tipicità e le differenziazioni rispetto alle DOC. Quindi un ulteriore esame che la DOCG deve subire per potersi denominare in tal senso. Ricordiamo inoltre che le DOCG, a differenza delle DOC, hanno l'obbligo della cosiddetta fascetta. Quella fascetta che trovate nel collo della bottiglia che si va a rompere nel momento in cui noi andiamo ad aprire e a stappare il vino, ecco, è obbligatoria per le DOCG, quindi le DOCG devono riportare quella fascetta, mentre invece le DOC possono farle anche a meno. È una scelta del produttore se metterle oppure no. Infine andiamo a vedere alcune ulteriori diciamo sottodenominazioni, chiamiamole così, o suffissi che le DOCG possono apporre all'interno dei loro vini sempre se presenti all'interno del disciplinare. Ricordiamo sempre che ciò che comanda è il disciplinare. Abbiamo delle menzioni che abbiamo, meglio delle indicazioni ulteriori che abbiamo anche già trovato all'interno di alcuni vini che abbiamo assaggiato anche qui nelle varie puntate, tra cui l'indicazione superiore che ricordiamo è un vino che ha una gradazione alcolica superiore appunto rispetto al vino diciamo base del disciplinare. Normalmente è uno 0,5 un grado in più in margine di tolleranza. Abbiamo poi l'indicazione riserva, quindi quei vini che subiscono un invecchiamento ulteriore di almeno due anni in più rispetto a quanto previsto dal disciplinare. La menzione classico quando parliamo ad esempio di DOCG o DOC che nel corso del tempo si sono allargate perché ricordiamo che i disciplinari nel tempo si modificano anche come a livello di andare a ricomprendere zone magari più ampie pensate alla DOC del Prosecco ad esempio e appunto la menzione classico va ad indicare una zona diciamo di origine storica oppure una di quelle zone che fin dal primo momento ha fatto parte del disciplinare quindi andare sostanzialmente a dare un qualche cosa in più un riconoscimento in più a queste zone. Vi è anche l'indicazione del vino novello qualora nel disciplinare sia permessa anche la produzione tramite macerazione carbonica e poi abbiamo le cosiddette sottozone le menzioni geografiche aggiuntive di fatto queste sottozone e menzioni geografiche aggiuntive sono un'ulteriore sofisticazione rispetto al concetto di territorio infatti queste vanno ad indicare una provenienza ancora più particolare ancora un po' più ristretta sia per quanto riguarda le uve che la produzione stessa infatti questi concetti si ritrovano anche ad esempio in Francia quando sentite parlare di ad esempio terroir ecco il concetto di terroir a grandi linee adesso sto un po' semplificando prima che mi saltino addosso tutti i vari esperti però diciamo riecheggia nel termine sottozona perché di fatto va a indicare un insieme di caratteristiche climatiche del suolo delle storiche dell'intervento umano che vanno a dare a quel vino quelle determinate caratteristiche e che quindi lo rendono diverso rispetto agli altri ancora più diciamo stretta è la menzione appunto geografica aggiuntiva perché va ulteriormente a ridurre questo concetto quindi se prima magari noi parlavamo di per le sottozone parlavamo ad esempio di comuni determinati può darsi che li andiamo a parlare anche proprio di parti di un determinato comune non so versanti di un determinato monte quindi ancora più a ristringere i francesi qui usano più il termine climat per andare a a dare questo diciamo per dare un termine di paragone non va confuso o meglio non è esattamente assimilabile al concetto di cru in quanto il cru che per i francesi è il singolo vigneto dal quale viene prodotto un determinato vino e ancora in Italia un concetto che non è ben stato assorbito comunque non sempre è denominato nei disciplinari la menzione geografica aggiuntiva ad esempio è presente mi viene in mente ad esempio nel Barolo o nel Barbaresco però il concetto ancora di cru non è perfettamente ancora assimilato però nulla vieta che magari nell'evoluzione futura anche questo termine francese possa entrare all'interno della nostra legislazione bene direi che con questo video un po' lungo ma sicuramente esaustivo vi ho dato una panoramica molto veloce della piramide della qualità ma se avete qualche altro dubbio o qualche altra domanda da farmi così come ha fatto simona utilizzate l'hashtag ask the wine e io vi risponderò in un video oppure direttamente nei commenti a questo video o agli altri video ricordandovi di iscrivervi al canale cliccare la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità ed iscrivervi alla pagina facebook e al canale instagram vi saluto ricordandovi che non bisogna bere se si ha meno di 18 anni non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolosi ma soprattutto bisogna bere con moderazione ma di qualità ciao e alla prossima con francesco su the wine channel